Giovanni Ciacci si è esposto su Instagram facendo una confessione sul suo stato di salute. Il racconto è commovente e svela un suo lato mai visto fino a ora. Siamo abituati a vederlo sempre iperattivo, sorridente e anche sarcastico. Ciacci è diventato famoso proprio per essere divertente ma anche velenoso, a volte, nei suoi giudizi di stile. Tuttavia, non è sempre oro quello che luccica. Infatti, dietro un sorriso possono a volte nascondersi delle sofferenze. Ed è proprio il caso dello stylist. Non lo vedremo più in tv. Ha annunciato infatti il ritiro dalle scene dopo aver preso parte per un anno alla trasmissione di TV8 ogni mattina condotta da Adriana Volpe. Il motivo è quello di aver deciso di dedicarsi a tutt'altro. Ma magari la confessione fatta sui social questo pomeriggio potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale in questa decisione. Lo stylist ha affidato a Instagram la delicata confessione sul suo stato di salute. Un post in cui lui viene fotografato mentre percorre un molo mentre il mare gli fa da sfondo. Un'immagine simbolica, che probabilmente vuole indicare l'inizio di un nuovo cammino. Ciacci ha confessato di aver perso 20 kg negli ultimi tre mesi perché il suo stato di salute era diventato precario e preoccupante. Tuttavia, non si fermerà qui. Infatti, fino a dicembre punta a raggiungere il suo peso forma. Ha ringraziato quindi tutti quanti gli sono stati vicini sostenendolo in questo cammino. La confessione spiazzante arriva però dopo, al termine del lungo commento allegato alle foto. L'uomo ha confessato di soffrire di bulimia. Ma, ammette, forse questa volta ho capito come combattere questa brutta malattia.